la napoletana, il risultato è 1 a 0 per il Napoli qui siamo a San Siro dove avete visto il Genoa protestare per un fallo poi prende il palo Antonelli una bella occasione per Collovati dopo un bel triangolo e Martina riesce a deviare in angolo tira serena, traversa di Beccalossi e poi l'Inter va in vantaggio con questo dosato cross di Müller deviato in rete da Antonelli, Altobelli di testa è il 14esimo minuto nuova traversa da parte degli interisti e poi si scatena il Genoa che va a cogliere il meritato pareggio con Briaschi che anticipa l'uscita di Zeng ecco, rivediamo dal cross che è stato effettuato dal